Musica 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 He consiste per te e vero se estene Legislante per te e vero se estene Prova aveva quanti figli Siamo in due Si si vedre quando può quanti figli 28 mila 19 quando siamo arrivati siamo arrivati come fissi perché dovete insistere voi altri comprate io vendo lo so figliolina mia ma è inutile capire mille lire rimettere in tasca 900 vengono da per mila lire il paio non era arrivata neanche passi signora mi prendo l'agito ma no a vendito allora vieni via se vuoi dare me da volentieri no vieni dopo volentieri che pericolo no no non ci trovo messi in mano se mi vuoi dare me da volentieri oh si oh si io se mi vuoi dare me da volentieri eh ma allora bisogna che sia anche cosciente Ah, ha ragione, sì, quella ha ragione, specialmente per ciaia. E allora ha giù. Grazie a tutti.